dobbiamo agevolare gli investimenti che creano lavoro ha esordito così il presidente della regione campania vincenzo de luca che a baronissi ha inaugurato la città della medicina il cui cantiere è partito lo scorso fine settimana è un progetto che riguarda al futuro nuove tecnologie industrie avanzate formazione ricerca ambiente è un simbolo di una nuova italia della nuova campania che vogliamo costruire ha continuato il governatore nelle prossime settimane presenteremo una proposta di abbattimento delle tasse per chi viene ad investire nei nostri territori il mezzogiorno ha bisogno di un regime fiscale privilegiato come esiste in altri paesi europei oltre che di semplificazione di sburocratizzazione radicale delle regole e delle procedure e dobbiamo cominciare a pensare a un nuovo destino produttivo per i nostri territori non basterà ovviamente creare un'infrastruttura creare un'area industriale dobbiamo creare convenienze per chi deve investire da questo punto di vista noi immagineremo anche nei prossimi mesi e prossime settimane una proposta davvero radicale di abbattimento fiscale per chi viene a investire nei nostri territori sapete che c'è stata una proposta di legge fatta qualche giorno fa a me pare che sia la cosa più seria e più importante per il mezzogiorno noi a volte polemizziamo con gli olandesi perché riservano alle imprese un trattamento fiscale privilegiato ma perché non lo riserviamo anche nel mezzogiorno il trattamento fiscale privilegiato detassiamo gli utili di impresa per le imprese che si insediano oggi in questi territori eliminiamo IRAP eliminiamo tasse che pesano in maniera insostenibile sulle imprese beh questo può accompagnare sicuramente un processo di investimenti nuovi in questi territori per il resto dobbiamo lavorare ad una sburocratizzazione radicale senza la quale credo che continueremo a parlare senza realizzare niente in italia